Salve a tutti, eccoci ritrovati al nostro oramai consueto appuntamento pomeridiano con la lezione di Geologia 2. La volta scorsa abbiamo iniziato l'argomento dei margini convergenti, cioè i margini dove due diverse placche si avvicinano fra di loro e consumano lo spazio intermedio, quindi vengono chiamati per questo anche margini distruttivi perché sono delle zone dove si distrugge dello spazio. Vi ho visto che un margine di placca convergente è fatto di alcuni elementi caratteristici. Il primo è l'avan paese, l'avan paese è la placca che arriva verso la fossa, si piega per immergene poi sotto il continente o comunque l'altra placca litosferica. L'avan fossa è quella fossa che si forma a seguito della flessura dell'avan paese, si piega, sprofonda e lì si possono accumulare dei sedimenti. Una zona di accrezione che è quella dove vengono raschiati i sedimenti che sono sull'avan paese che sta scendendo in subduzione, questi sedimenti formano una specie di cuneo davanti che viene chiamato appunto cuneo di accrezione. Dietro il cuneo di accrezione, se l'accrezione coinvolge degli elementi di crosta continentale, quindi degli elementi massivi, questi si accumulano l'uno sopra l'altro in forma di falde di ricoprimento e fanno quello che si chiama l'arco tettonico, cioè il vero e proprio orogene, la vera e propria catena montuosa che si forma al bordo di un continente o in una zona oceanica o comunque in una zona di accrezione. Poi abbiamo l'arco vulcanico ancora dietro verso il retro paese, l'arco vulcanico abbiamo visto è dovuto alla formazione di vulcanismo a seguito della subduzione, dietro l'arco vulcanico possiamo avere o non avere una zona di distensione di retroarco, in questo uno degli elementi fondamentali è il movimento del mantello da ovest verso est che condiziona la geometria e la formazione dei diversi elementi del sistema. L'avampaese, abbiamo detto, è la placca litrosferica che converge verso la zona di subduzione, quella che dovrà andare sotto per intenderci, generalmente oceanica, ma quando si arriva alla collisione continente-continente, l'avampaese può essere anche di tipo continentale come è il caso nell'appennino della litrosfera adriatica padana. L'avanfossa è la zona dove l'avampaese flette, si piega sotto e quindi naturalmente crea una depressione, poi dopo scivolerà sotto l'arco, l'arco di subduzione e poi ritornerà, andrà nel mantello. Ora qui abbiamo il solito Giappone con la sua fossa, l'abbiamo già vista, ora cambiamo un attimo immagine. Ecco, questa è la fossa delle Filippine, anche quella è profonda una decina di migliaia di metri, vediamo la placca oceanica verso destra, verso est, che piega e flette sotto le isole dell'arcipelago delle Filippine. La fossa in questo caso è molto profonda perché le isole producono pochi sedimenti, quei sedimenti che sono alla superficie della placca oceanica che si sta avvicinando e sottoscorrendo si saranno grattati e accumulati lungo il bordo, il bordo della fossa. Ecco, questa invece è un'altra fossa dall'altra parte dell'oceano pacifico, questa è la costa del Cile, la catena delle Ande produce sedimenti che vengono trasportati dai fiumi, è l'erosione, produce sedimenti che vengono trasportati dai fiumi e quindi vanno poi ad occupare, a riempire la vanfossa, che si vede bene in questo caso, che piena a quei sedimenti sono in parte provenienti dalla zona oceanica e in parte provenienti dalla zona continentale. In queste condizioni sul bordo fra i due si forma quello che è un prisma di accrezione che va a posizionarsi tra l'avampaese e il retropaese, cioè la placca sovrastante. Ecco, questo forse lo vediamo meglio, questo è il prisma di accrezione, sulla destra abbiamo un continente, un continente che si va a convergere verso una litosfera, in questo caso oceanica, l'litosfera oceanica è tutto lo spessore sotto, quelli colorati di chiaro sono i sedimenti, questi sedimenti possono comprendere anche edifici vulcanici, possono comprendere frammenti di altre zoccole continentali eccetera, questi elementi vanno, saranno grattati, grattati, grattati e andanno a costituire questa specie di triangolo che ha la forma di un prisma e viene chiamato il prisma di accrezione. Ecco, questo qui è il nostro prisma di accrezione che viene spinto dal continente come se fosse spinto da una ruspa, naturalmente lo spessore e l'estensione del prisma dipendono dal tipo di sedimenti che ci sono. Beh, questo qui è diciamo un giochino di quello che succede, insomma una schematizzazione, un esempio di quello che succede sul fronte di un prisma di accrezione quando il materiale soffice, in questo caso credo sia sabbia in una cava, viene spinto al retro da quello che sarebbe, che è il margine continentale esemplificato con le nostre ruspe che stanno spingendo i sedimenti oceanici. Come è facile immaginare tutti quei sedimenti, quel cuneo di roba portato dalle ruspe, si rimescola tutto, in questo movimento avrà una serie di movimenti di deformazioni interne, questo tipo di depositi che lo chiamiamo infatti melange, che vuol dire miscuglio, avremo mescolati tutti insieme da questo movimento nel prisma di accrezione tutti quegli elementi che prima erano ordinatamente stratificati sulla crosta oceanica. Quando io vado a vedere un melange lo riconosco facilmente. Ecco, qui siamo in Grecia, questa è un'oscuzione che abbiamo fatto parecchi anni fa, questo è il melange, cioè il miscuglio che sta sul fronte della catena delle dinari di elleniche. Tutti questi sedimenti, vedete, sono prevalentemente argillosi, degli strati sottili che mi indicano una sedimentazione lontana dalla costa, quindi questa è la copertura sedimentaria di un fondo oceanico. Una volta le chiamavano anche le argille caotiche, perché all'interno i geologi non riuscivano a ricostruire un ordine, poi si è capito che questa viaggiatura caotica era dovuta al trasporto tettonico sul fronte di una zona di solduzione. Se poi li vado a guardare da vicino sono ancora più singolari. Ecco, questa è una sequenza ofiolitica che sta proprio inglobata insieme a questo melange. Vediamo che questa sequenza ofiolitica scura di argille e lave di fondo oceanico c'è un blocco di calcari di scogliera, una breccia di scogliera, una breccia che si è formata sul bordo di un continente, quindi un ambiente completamente diverso da quello dell'argille della sequenza ofiolitica, ma dentro questa stessa breccia ci sono due pezzetti di sequenze ofiolitiche. Quindi abbiamo una serie di elementi all'octone completamente diversi fra di loro imballati in questo melange. È chiaro che in queste condizioni l'unica spiegazione è che questa prisma di accrezione abbia coinvolto, inglobato e impastato tutta una serie di elementi provenienti da migliaia di chilometri di distanza. Ci pensate, l'avvicinamento delle due placche è di migliaia di chilometri e quindi nel prisma di accrezione ci sono coinvolti materiali che si sono sedimentati lungo uno spazio di migliaia di chilometri. Quando il prisma comincia a coinvolgere i margini del continente sia perché finisce l'area oceanica e quindi arriviamo ad avvicinare, a collidere placca continentale con alta placca continentale, oppure semplicemente perché la deformazione è tale che si deforma anche il margine, il margine del continente. Allora in questo caso le sequenze rocciose si accavallano le une sulle altre, si accavalleranno ovviamente le sequenze dei margini, dei margini continentali, quelle che stanno tra i margini e gli oceani, che guarda caso saranno proprio le sequenze carbonatiche, quindi l'arco tettonico che impilerà una sull'altra le unità di margine continentali sarà fatto prevalentemente da sequenze carbonatiche. Guardate questa figurina dentro l'ellisse, quelle strutture fatte a mattoncini sono le nostre calcari, ecco nei mattoncini il simbolo geologicamente si intende sempre la piattaforma calcarea, sotto hanno tutte una radice scura che sta a simbolizzare la parte inferiore della sequenza carbonatica, che sono le marne scure, i calcari scuri, quelli a bellerofon, quelli a megalodon del trias inferiore, e sotto questa sequenza ci sono le evaporiti, quindi le evaporiti hanno anche l'effetto di fare il lubrificante, il sale e le evaporiti sono molto deboli tettonicamente e fanno anche il lubrificante che permette a tutte queste sequenze, a questi pezzi di piattaforma che sono, di scorrere gli uni sugli altri e creare questo arco tettonico, mentre la crosta inferiore, la litosfera, la crosta inferiore, sia continentale che oceanica, scende in subduzione e va a costituire le radici della catena, poi diventerà, se in caso sia crosta sia roba continentale, diventerà metamorfica, comincerà a fondere, darà luogo delle enigmatiti e poi rientrerà nel ciclo delle rocce. L'arco tettonico dà origine alla catena vera e propria, il caso dell'Appennino. Questo è, vabbè, questo lo riconoscete tutti, questo qui è la parte settentrionale dell'Appennino, vedete la linea rossa continua sta a indicare il crinale dell'Appennino, quella è la parte più rialzata dove le sequenze dell'Appennino, il Gran Sasso, le sequenze Umbre, eccetera, vanno a rovesciarsi e avanzano verso il mare Adriatico. Quella zona invece delimitata dal limite tratteggiato, bene, quello è l'Appennino sepolto, sotto la pianura padana c'è dell'Appennino che sta nascendo, che poi passerà davanti al Conero, davanti ad Ancona, poi passerà davanti alla Maiella, eccetera, poi l'Appennino sepolto rappresenta proprio il prisma di accrezione che avanza sul fronte della catena appenninica, poi anche quello sarà coinvolto nella catena vera e propria. Il disegnino che vedete in alto sono le sequenze sepolte dell'Emilia, sono zona di idrocarburi, abbiamo visto che questa sequenza, questa parte esterna sarà quella che produrrà la sismicità della pianura padana, che non è pianura perché sotto è già un prisma di accrezione. Dietro l'arco tettonico, che in questo caso è proprio il culmine dell'Appennino, abbiamo la zona toscana in questo caso, che è una zona di apertura, tipo retroarco, e una zona vulcanica, magmatica, a parte i laghi laziali che sono laghi in crateri, in caldere di eruzione quaternarie, abbiamo tutte le zone magmatiche ora spente, dei batoliti toscani e dell'isola d'Elba, abbiamo l'arderello che scalda i vapori da cui vengono, con cui viene prodotta l'energia elettrica, e abbiamo tutta l'area anomala che arriverà fino al terreno, che sappiamo essere una zona in espansione, e tutti i vulcani. Ecco, questo qui schematicamente è lo stesso, abbiamo la crosta adriatica che scende sotto la catena, la catena che avanza con il gran sasso e tutte le sue sequenze, calcare appenniniche, impilate le une sulle altre, e sul fronte spinge quel cuneo giallo, che è il cuneo dei sedimenti che sono sulla crosta adriatica, in parte sono sedimenti prodotti dalla stessa montagna, dalla deformazione dell'appennino, in parte saranno portati dal Po, nel nostro caso, e quindi quello sarà il cuneo di accrezione, questo cuneo di accrezione, a meno di non avere delle radici carbonatiche di crosta continentale, in genere non farà terremoti perché è materiale dove difficilmente si accumulano sforzi elastici, perché sarà materiale, diciamo, soffice, in qui siamo sul Monte Aquila, dal Monte Aquila guardiamo verso sud, quindi quello nelle nuvole verso sinistra è la pianura, le colline terramane e il mare, il mare adriatico. Il gran sasso è uno degli elementi più esterni delle piattaforme appenniniche che infatti va a piegare così, va a piegare e si rovescia sopra l'avampaese padano-adriatico, che in questo caso è composto dalla piattaforma Apula, la quale flette, flette, flette e va a immergere sotto la catena, fa una fossa che in questo caso è occupata da una serie di sedimenti, abbiamo di fronte al gran sasso che sta piegando, ci sono tutta una serie di strutture ben note ai petrolieri perché accumulano idrocarburi, ecco questa è la struttura, l'appennino e il gran sasso che è uno degli elementi più esterni, vanno a, costituiscono l'arco tettonico e si vanno a rovesciare sopra l'avanfossa padana. L'avanfossa padana ha una serie di prismi, ha un prisma di accrezione che coinvolge tutta una serie di elementi che appartenevano alla piattaforma padana adriatica. Questi elementi del prisma di accrezione appenninico sono ben conosciuti dei petrolieri perché sono una di quelle zone dove ci sono delle strutture ad anticlinale che sono una riserva di idrocarburi, quindi se non ci fossero le nuvole noi vedremo là nel mare lontano tutta una serie di chiodi di perforazione che sono appunto localizzate sopra gli elementi esterni del prisma di accrezione appennino che avanza verso l'avanpaese adriatico.